Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento col Meteo di TV6. Nel corso di questa domenica l'anticiclone riconquisterà tutta Italia, spazzerà via le nubi, qualche isolato temporale arrivato nelle ultime ore al nord, nelle zone interne del centro, ne conseguirà un nuovo importante aumento delle temperature. Sarà pertanto un weekend pienamente estivo, solo l'arco alpino vedrà qualche rapido equazione pomeridiano, ma nulla di particolarmente incisivo, altrove dominio totale del sole e del caldo. In Abruzzo un weekend dominato dal sole, temperature che tornano pian piano a salire si riporteranno nelle massime tra i 30 e i 33 gradi, minime tra 14 e 22 gradi, venti debolissimi di brezza, mari generalmente calmi o poco mossi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.